Sono buonissimi a mangiati caldi che a temperatura ambiente. Hanno un ripieno cremoso di ricotta e tonno. Lavora la ricotta con una forchetta. Unisci poi un goccio d'olio, del pepe, un pizzico di sale, del prezzemolo tritato e mescola bene. Rompi il tonno con una forchetta e uniscilo poi alla crema di ricotta. Mescola e fallo incorporare. Lava velocemente sotto l'acqua coerente i fiori di zucca, tamponali e poi leva il gambo e le screscenze che si trovano sulla base. Aprite il fiore, afferrate il pistillo e fate rotteare. In questo modo si staccherà il pistillo e non roperete il fiore. Olleate una teglia e farcite i fiori con la crema di ricotta e tonno. Chiudete il fiore e disponeteli man mano nella teglia. Aggiungete del sale e dell'olio. Fate cuocere a forno statico già caldo a 180 gradi per 15 minuti. Ovviamente se li provate fatemi sapere, sono buonissimi!